Io sono Bruno Villella, faccio parte della Proloco di Soveria Mannelli e a nome del Presidente Ferrante e di tutti i soci volontari della Proloco. Ringraziamo l'Associazione Lemus di Reggio Calabria, il Presidente Giuseppe Livoti e tutti gli artisti che sono venuti appunto da Reggio, da Cosenza e da Cadanzaro che ci hanno permesso di trascorrere una giornata all'insegna della poesia e dei quadri che sono esposti qui nella Casa delle Idee a Soveria Mannelli resteranno qui per un bel po' di giorni. Invitiamo la gente della popolazione di Soveria Mannelli e dintorno a venire a visitare questi quadri. È stata una bella giornata e arrivederci e grazie. 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 Grazie.